Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Ara, benvenuti ad una nuova sbustata della serie Lego Mini Figures dei Simpsons. Andiamo subito ad aprire la nostra bustina con Logan, in compagnia del nostro Logan. Ora sapete anche chi dovrebbe... perché l'ho chiamato così, se qualcuno non l'avesse capito. Comunque, ha fatto breccia nella bustina e noi l'apriamo senza mezzi termini. Vediamo la solita checklist, i soliti personaggi per rinfrescarvi la memoria, sono 16 ve lo ricordo. Eccoci qua li avete visti, buttiamo via la prevista e svuotiamo, non vedo l'ora di vedere chi ci sarà. Eccoci qua abbiamo già intravisto il nostro protagonista di oggi, lo montiamo in 4 e 4 8, è molto facile da montare. E abbiamo il nostro Apu, il proprietario del Jet Market, questo personaggio indiano ragazzi. Anche questo personaggio divertentissimo con le sue gag, con i suoi prodotti scaduti, con le sue gag con Homer nel supermercato ragazzi. Fantastico, abbiamo questa tazza, questo bicchiere di bibita, lo Slurme se non mi sbaglio. Forse mi sto confondendo con quello di Futurama, ragazzi sono impreparato, scusate, comunque qui c'è scritto Squishy ma non è questo il nome italiano sicuramente. Comunque ragazzi è realizzato magnificamente, guardate tutti i dettagli stampati dell'abito, i peletti anche. Il viso è fantastico, assurdo quanto l'hanno fatto somigliante. Le articolazioni come al solito c'è la rotazione alle braccia, rotazione alle mani e l'articolazione alle gambe, nonché rotazione della testa. Naturalmente c'è sempre la nostra fedele base per tenerli in piedi senza che cada. Beh ragazzi, anche per oggi il video finisce qui, spero che vi sia piaciuta questa miniatura. Fatemi sapere con un commento che ne pensate del personaggio di Apu, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto. E se volete aiutarmi condividetelo, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e da Apu.